Grazie a tutti per la Commissione di Tourist Guides Union dei Ioniani e della Grecia occidentale. Noi a Corfu siamo molto fieri della nostra storia, molto fieri della nostra cultura locale, tanto particolare, soprattutto quella musicale, molto fieri delle nostre tradizioni, uniche in tutta la Grecia. Molto, non so se chiede, stov'indice, obvelducend, con natura bambola. Il vero come lega la traccia, il conere la tranquillità, basando con il nostro malecone. Tutto e vedete ti erratasmo, io non ti dini. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.